ragazzi stamattina abbiamo incontrato mattia passerini dove ciao mattia tu dove corri grandioso e tutto avete girato insieme tutta la mattina adesso facciamo una bella ripresa tu sei un esordiente giusto grande ragazzo un g3 quest'anno vai fateci vedere qualcosa ma ragazzi fateci vedere un bel giro completo ai che sta girando anche il papà di mattia grande bravissimo cric è visto anche il papà di mattia gira grandioso grazie a tutti ecco qui grande mattia salutiamo tutti quelli di vigevano ciao ragazzi ci vediamo presto il campionato regionale speriamo di vincere giusto